Musica Ben ritrovati da oltre la cronaca anche oggi un'edizione tutta dedicata al convegno ecclesiale nazionale di Firenze che si è appena concluso questa mattina le sintesi e le prospettive sui cinque ambiti di riflessione uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare tra pochissimo ci collegheremo con Giacomo Biancardi da Firenze che ci racconterà proprio di questa giornata ma prima sentiamo le sintesi, le prospettive soprattutto segnate dal Cardinale Bagnasco Presidente della CEI nel servizio che ha preparato Roberto Zoppi Non è stato un intervento di chiusura bensì un rilancio dei passaggi fondamentali vissuti in questo quinto convegno della Chiesa italiana quello pronunciato dal Cardinale Presidente della CEI Angelo Bagnasco in fine mattinata segno dell'evoluzione di una Chiesa che sospinta dalle parole e dalla testimonianza di Papa Francesco Riformula la sua presenza e la sua opera alla luce del comandamento evangelico dell'ama il prossimo tuo come te stesso fino al punto di ferirsi, di sporcarsi le mani, di subire attacchi e calunnie per non venire meno all'invito di Gesù L'aveva ribadito martedì ai convegnisti, ai fiorentini e ai toscani, ai cattolici italiani, Papa Francesco meglio una Chiesa povera e ferita che una Chiesa chiusa in torri d'avorio è il nuovo umanesimo a partire dalla figura di Gesù che la Chiesa italiana è venuta a ritrovare a Firenze ha detto il Cardinale Bagnasco La ricostruzione dell'umano che la Chiesa avverte come suo compito primario e inscindibile dall'annuncio del Vangelo passa da un'attenta conoscenza delle dinamiche e dei bisogni del nostro mondo quindi dall'impegno ad una inclusione sociale che ha a cuore innanzitutto i più poveri dall'impegno operoso muove da un costante riferimento alla persona di Gesù Cristo modello e maestro di umanità che dell'uomo è il prototipo e il compimento Per il porporato è nello stile sinodale, nella capacità dell'ascolto e del dialogo fra pari che si concretizza uno dei verbi al centro della riflessione del convegno di Firenze Dobbiamo anzitutto uscire, andare Non basta essere accoglienti, dobbiamo per primi muoverci verso l'altro perché il prossimo d'amare non è colui che ci chiede aiuto non solo, ma colui del quale ci siamo fatti prossimi Desidero una Chiesa lieta, col volto di mamma, che comprenda, accompagna, carezza Ci ha detto il Papa Concludendo il suo discorso, il Cardinale Bagnasco ha rilanciato l'invito del Papa a partire dalla grande opportunità offerta ad ogni credente dell'anno santo della misericordia a confrontarsi con gli stimoli offerti dalla lettera apostolica Evangelium Gaudium L'assunzione di uno stile sinodale, che abbiamo sperimentato con tanto sapore, tanto gusto perché giunga ad avviare processi, richiede precisi atteggiamenti Lo stile sinodale richiede innanzitutto dei precisi atteggiamenti Non riguarda un fare, un metodo, ma un essere interiore Atteggiamenti che dicono anzitutto il nostro, il mio modo di pormi di fronte al volto dell'altro Infine, per dare concretezza al discernimento uno stile sinodale deve sapersi dare degli obiettivi verso i quali tendere Di qui l'importanza di riprendere in mano l'esortazione apostolica Evangelium Gaudium e il materiale, le suggestioni E parlando delle povertà, il Cardinale Bagnasco Abraccio ha anche aggiunto un dato sulla vicinanza della Chiesa italiana ai poveri come i 6 milioni di pasti distribuiti all'anno Ma adesso ci colleghiamo con Giacomo Biancardi da Firenze che ha alcuni ospiti e molti contributi per raccontarci come è andato questo convegno ecclesiale nazionale Vediamo se è in collegamento con noi Giacomo Biancardi Sì, ciao Marina, sono in collegamento per questo nostro ultimo appuntamento a Firenze per queste edizioni speciali di Oltre la Cronaca che vi abbiamo proposto qui dal capoluogo toscano Qui con me Donizio Falavegna, diocesi di Verona quindi volto noto ai nostri telespettatori veronesi in particolare col quale vogliamo parlare di quelle che sono le prospettive che sono emerse anche nella sintesi e nel documento conclusivo letto dal Cardinale Bagnasco un riferimento all'umanesimo un umanesimo che è un percorso pressoché impossibile se non si guarda a Cristo Certo, diciamo che questa è la grande sfida che ci attende anche come Chiese quella di dire che il Vangelo è in grado di dare una qualità e un senso al vivere umano e chiaramente è il riferimento primo la misura alta di questa umanità per noi è Gesù Cristo Già la Gaudium de Spessa aveva detto chi segue Gesù Cristo, l'uomo perfetto, diventa gli stesso più uomo e questa è la grande sfida cioè collocare dentro quei processi di umanità che permettano di portare su di noi il riflesso dell'originale che ci appartiene quello di essere a immagine di Dio Durante queste giornate si è fatto spesso riferimento al cammino sinodale come elemento principale di un verbo che lei ha analizzato e approfondito in queste giornate ovvero l'uscire Certamente devo dire innanzitutto che la modalità con la quale abbiamo vissuto e quindi l'esercizio della sinodalità è la parola più bella della sinodalità che si consegna come prospettiva e come impegno per le nostre chiese su questo anche il Cardinal Bagnasco ha insistito in una maniera forte perché di fatto è stata un po' anche la consegna da parte di tutti gli ambiti di lavoro cioè che vivere così, cioè operare così è possibile ed è l'espressione di una chiesa veramente umana dove tutti hanno spazio anche nella nostra diversità pur nelle nostre fatiche ma soprattutto con le nostre ricchezze Ecco poi per quanto riguarda il verbo uscire o la via dell'uscire ma ci siamo detti innanzitutto che su questo percorso non si tratta semplicemente di fare delle cose o di cambiare qualche cosa ma innanzitutto uno stile cioè un modo di stare nuovo alla luce del Vangelo e quindi è un grande appello alla conversione una conversione che nasce dall'incontro, dall'ascolto della parola di Dio ma che ha anche nella dimensione celebrativa proprio il luogo più appropriato dove quel trasformare diventa uno spazio di gratuità e di dono certo poi ci sono stati anche altri elementi per esempio un'immagine molto plastica che è stata questa cioè se finora nella nostra idea è quella di essere stati o di essere sentinelle che vegliano forse adesso è il caso che diventiamo esploratori cioè la sentinella tutto sommato è ancora uno che rimane all'interno di un luogo sicuro che scrutta l'orizzonte per vedere eccetera per salvaguardare degli spazi l'esploratore no cioè mette a rischio mette in gioco se stesso nel coraggio di andare dentro quelle periferie quei luoghi realmente della vita che non si conoscono ma proprio per incontrarli conoscerli e porci in modo adeguato dentro quel contesto Benissimo grazie per questa sua testimonianza e ora proponiamo il primo della serie dei contributi predisposti per questa nostra diretta un'intervista che abbiamo realizzato all'inizio di questa giornata con il Patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia dai cinque verbi di inizio di questo convegno siamo arrivati ormai a definire altrettante vie per un rinnovamento sì c'è una differenza ma non una separazione drastica con Verona quindi gli ambiti le vie soprattutto questo desiderio di intercettare la concretezza dell'uomo e attraverso un'antropologia che si declini in questi verbi sia una cristologia diciamo legata strettamente a atteggiamenti evangelici l'umiltà il disinteresse la beatitudine anche nei momenti di prova di sofferenza sono queste le indicazioni che ci ha dato il Papa dicendo anche di guardarci da alcune tentazioni che possono essere presenti direi nel cuore degli uomini e delle donne di Chiesa e che quindi potrebbero anche rendere difficile un approccio pastorale che sia capace di intercettare la nostra società postmoderna sostanzialmente si può dire che si conclude Firenze ma il difficile viene adesso diciamo che Firenze inizia adesso perché sono state dette cose belle sono state dette in una maniera direi anche affascinante il ricordo che ci aiuta nel post Firenze che poi è l'inizio vero di Firenze è questa esperienza di Chiesa Sinodale anche i momenti meno visibili forse alla platea però quelli dei tavoli della condivisione del far maturare alcune scelte condivise con una riflessione legata a delle vocazioni particolari perché in un tavolo c'erano cardinali vescovi preti consacrati laici padri e madri di famiglia e giovani poi anche quella intuizione di mettere ogni tanto un tavolo di soli giovani che potesse stimolare direi in modo particolare proprio una Chiesa che vuole essere giovane dicendo Cristo in un modo molto semplice ma anche in un modo molto evangelico questo dunque come primo contributo ci diamo la linea allo studio di Verone intanto ecco grazie Giacomo sappiamo che hai già un altro ospite allora quello che vorrei chiedere al tuo ospite è come e che cosa arriverà di questo convegno ecclesiale di Firenze poi al fedele comune quello che va in Chiesa magari solo la domenica allora come questi contenuti che orientano poi la Chiesa per dieci anni fino al prossimo convegno ecclesiale nazionale arriveranno ai fedeli comuni ecco ne parliamo allora contro Alberto Gastaldi che è della diocesi di Chiavari la domanda che mi pongono da studio è la seguente i contenuti le riflessioni le conclusioni a cui si è arrivati qui a Firenze come di concreto arriveranno poi al fedele nelle singole diocesi e parrocchie beh innanzitutto c'è la ricaduta da parte dei delegati delle diocesi che dovrebbero cercare di trasmettere in un primo livello agli organi di partecipazione ecclesiali del proprio territorio e quindi a ricaduta arrivare anche al singolo fedele ma innanzitutto direi che ci sarà questa passione che dovrà diventare uno stile quindi il singolo fedele non dico da domani ma speriamo da dopo domani possa respirare uno stile ancora più vicino ancora più prossimo della nostra Chiesa anche nelle parrocchie nelle associazioni e nei movimenti ecco uno degli elementi sicuramente caratteristici di queste giornate è stato relativo alla presenza dei giovani giovani che sono stati molto attivi nell'ambito delle riflessioni proposte nei tavoli da 10 poi da 100 nel corso di queste giornate giovani che hanno anche diffuso un documento indirizzato a tutti i delegati nel quale viene espresso chiaramente il desiderio la volontà per meglio dire di essere i primi a uscire sulle strade del mondo mi sembra un messaggio piuttosto chiaro quello arranciato da questi giovani sì è un messaggio chiaro di essere protagonisti nella Chiesa ma è importante anche il messaggio che dicono i giovani desideriamo essere protagonisti ma avendo accanto degli adulti hanno richiamato forte il ruolo degli adulti come accompagnatori significativi nel percorso della Chiesa in tutti i giorni e in effetti abbiamo bisogno davvero di figure che possano mostrare ai ragazzi ai giovani la bellezza della vita una nota critica nei confronti del mondo degli adulti molti adulti che non danno loro le chiavi della propria esistenza e non mancano però ogni giorno di dare loro anche dei pessimi esempi eh sì sono state parole davvero forti che mi hanno colpito essendo un adulto che quotidianamente si confronta con i giovani e prima mi sono sentito in causa io di cercare di vivere proprio la mia fedeltà al Vangelo e cercare di trasmettere la vita buona ecco e sicuramente per noi adulti è un'accusa che ci deve rimettere in gioco ecco fare una riflessione su di noi e non subito dire guarda ecco i ragazzi ci hanno accusato ma loro non sono rimettiamoci prima in gioco noi chiediamoci cosa ci manca e come davvero possiamo stare accanto in modo bello ai giovani e direi che le conclusioni di questo convegno di Firenze interpellano tutti noi su tutti i fronti toccati proprio in questa analisi verso noi stessi grazie per questa testimonianza questa intervista che abbiamo realizzato con Don Alberto Gastaldi della Diocese di Chiavari adesso altro contributo una testimonianza che ci arriva da un delegato della Diocese di Bologna adesso inizia il lavoro nelle singole Diocesi da questo convegno ecclesiale un lavoro di una chiesa in uscita di una chiesa che è chiamata a rinnovarsi guardando ai poveri guardando oggi ai più lontani una chiesa che anche al suo interno è chiamata a diventare simbolo di comunione il termine più usato è stato sinodalità e credo che questo sia un termine quanto mai oggi da riutilizzare in tutti i nostri contesti territoriali per quanto riguarda i giovani che cammino si deve intraprendere beh i giovani ci chiedono sicuramente lealtà ci chiedono sicuramente trasparenza e ci chiedono anche di una chiesa appunto in uscita che sappia dialogare con loro stare con loro prima di tutto ancora prima di annunciare Cristo il secondo passaggio annunciare Gesù che è vivo e presente e che può veramente costruire la loro identità e il loro futuro questo dunque per quanto riguarda la testimonianza dalla diocesi di Bologna molti delegati abbiamo detto oltre 2000 presenti provenienti da tutte le diocesi del nostro paese e vogliamo proporvi altre testimonianze altre riflessioni raccolte nella giornata odierna inizierei dal presidente dell'azione cattolica nazionale Matteo Truffelli ancora più che di attesa parlerei così dai primi lavori di oggi di grande disponibilità il grande desiderio di mettersi a servizio di prendersi carico delle indicazioni del Papa di ieri e anche di questi anni per tradurle concretamente nella vita quotidiana diciamo della nostra comunità del nostro territorio quindi non solo attesa ma anche voglia di prendere in mano le cose una cosa bella di questo convegno è proprio il confronto continuo bello tra laici sacerdoti pastori consacrati e sicuramente diciamo da parte del laicato c'è grande voglia di essere propositivi grande voglia anche di essere ascoltati e di avere qualche cosa da dire l'azione cattolica nazionale alla comunità di Sant'Egidio con il presidente Marco Impagliazzo comincia un percorso molto importante per la chiesa italiana dopo il grandissimo discorso di Papa Francesco e dopo questi giorni di intenso lavoro qui a Firenze dove si è espressa molto la volontà di tutti i delegati di credere in questa chiesa in uscita che va verso tutti particolarmente verso i poveri c'è un grande desiderio di aprire le porte delle nostre parrocchie dei nostri movimenti di incontrare la gente nelle strade nelle piazze nei luoghi di lavoro è un desiderio che nasce dall'invito del Papa ma anche dalla forza di una chiesa italiana che in questi anni è stata sempre a contatto con il popolo con la realtà e con i problemi di questo paese questo dunque per quanto riguarda quanto abbiamo raccolto con il presidente della comunità di Sant'Egidio noi proseguiamo a raccontarvi un altro aspetto di questo convegno è riferito in particolare al mondo della comunicazione della nuova comunicazione dei mezzi di comunicazione dei social network molte le utilizzazioni di questi social Facebook ma in particolare Twitter è andato molto raccontando in tempo reale lo svolgimento dei vari momenti di riflessione di questo convegno qui con me ho Alberto Bordoni che è del Twitter team lo abbiamo presentato all'inizio di queste nostre dirette qui da Firenze un gruppo di ragazzi che hanno lavorato per conto della CET quindi la conferenza episcopale del Triveneto per raccontare via Twitter ma non solo anche con immagini questo convegno che tipo di esperienza è stata intanto? è un'esperienza sicuramente positiva soprattutto vista la nostra età molto giovane all'interno di un congresso in cui non è facile forse fino alle scorse edizioni incontrare un giovane l'esperienza formativa anche perché siamo riusciti a mettere in pratica quello che all'università noi abbiamo studiato e con un evento oltretutto su scala nazionale ricordiamo che voi siete studenti dello IUSVE sì siamo studenti dello IUSVE del corso magistrale di web marketing e digital communication dove appunto impariamo come le nuove tecnologie possono essere utili a sponsorizzare un evento un prodotto e anche a vendere noi stessi per cui come comunicare agli altri e essere presenti anche nel mondo social vi siete rifatti a Twitter quindi con tanti lanci rilanci di quelle che sono state le riflessioni che avete potuto raccogliere in questi giorni di convegno anche realizzando delle interviste utilizzando gli smartphone per esempio per quanto riguarda alcune testimonianze e non solo come vi hanno accolto i delegati? Allora sì per l'appunto abbiamo utilizzato dei telefoni per fare registrazioni perché siamo rimasti su un ambito comunque molto social per cui qualcosa di immediato di molto facile da utilizzare e veloce da poter condividere i delegati all'inizio non ci conoscevano così tanto bene non sapevano bene chi fossimo dopo un po' invece hanno iniziato a individuare le nostre figure qualcuno vedendoci quasi dopo un po' era terrorizzato dal fatto che li stavamo tartassando in continue interviste che però hanno avuto un buon risponso sui social visto che anche le stesse di oggi si erano contente di vedere i loro delegati presenti sulla rete e intervistati anche nei momenti più semplici domande veloci su come è vissuto questo momento avete raccontato quella che è stata la vivacità dei delegati del Triveneto presenti qui a Firenze grazie per il lavoro svolto ringrazio anche i tuoi colleghi e compagni di corso di studi per quello che avete fatto in queste giornate qui a Firenze e noi proseguiamo con altri collegamenti o meglio altri contributi che abbiamo realizzato ora vi proponiamo un'intervista che abbiamo compiuto con padre Giulio Albanese devo dire che c'è uno spirito di innovazione nel nome del Signore non fosse altro perché le provocazioni che ci ha lanciato Papa Francesco sono forti fanno riferimento alle scritture alla tradizione della Chiesa al Magistero ma poi in fondo esprimono i punti fermi dell'Evangelii Gaudium che è la sua enciclica programmatica in fondo che cosa ci ha detto Papa Francesco basta con le parole dobbiamo davvero passare decisamente dalle buone intenzioni ai fatti all'azione pratica di fede la nostra Chiesa deve con grande umiltà rimboccarsi le maniche quello che ci viene chiesto è di essere segni di contraddizione di ritornare alla primigenia espirazio vale a dire tornare indietro con la moviola della storia e recuperare i fondamentali del cristianesimo il cristianesimo è innanzitutto e soprattutto una relazione c'è la dimensione comunionale c'è la solidarietà tutto è incentrato sull'ascolto attento delle scritture ma mai come oggi ci viene chiesto di dare ragione della speranza che è nei nostri cuori cioè quello che è importante in una maniera o nell'altra è di far sì che quella che è l'esperienza eucaristica la vita sacramentale in una maniera o nell'altra possa come dire innescare dei cambiamenti nell'agorà nella piazza il vero problema oggi qual è? che noi abbiamo tanta gente che va messa la domenica mani giunte con lo storto e poi si innesca paradossalmente una sorta di cortocircuito per cui vi è una sorta di raffreddamento nel momento in cui usciamo fuori le mura allora qui è importante mettersi in discussione sicuramente i ministri di Dio ma direi in senso lato un po' tutti quanti capire comprendere col cuore e con la mente che non possiamo vivere un cristianesimo algido e ingessato fatto di merletti e candelabri qui c'è davvero da assumersi le proprie responsabilità perché la gente che ha fame e sete di Dio nella nostra società è davvero tanta e sono decisamente molti gli spunti proposti da questo convegno ecclesiale di Firenze un convegno che moltissimi dei delegati hanno voluto sottolineare non si conclude di fatto qui ma per certi aspetti incomincia portando ognuno di questi delegati nelle proprie diocesi di appartenenza il risultato di queste giornate di lavoro e di riflessione sui cinque verbi le cinque vie che hanno caratterizzato la riflessione di queste giornate e che sono stati sintetizzati nel corso della mattinata odierna e da altrettanti incaricati ognuno per ciascun verbo e quindi poi le conclusioni tratte dal Cardinal Bagnasco conclusioni che abbiamo proposto in cronaca diretta circa un'ora fa per quanto riguarda la comunicazione o comunque le suggestioni offerte dalle vie dai verbi suggeriti e proposti per questo convegno nel corso di queste giornate abbiamo anche realizzato una proposta in collaborazione con l'Acec un riferimento a spettacoli cinematografici o teatrali proprio coniugandoli con i verbi trattati e analizzati qui a Firenze vi proponiamo l'ultimo contributo in ordine di tempo e di realizzazione per quanto riguarda questa collaborazione con l'Acec l'idea di trasfigurazione non è soltanto un processo che in qualche modo parte dal basso e va verso l'alto ma l'idea di trasfigurazione per come l'abbiamo interpretata anche all'interno dei teatri del Sacro è un processo invece che dall'alto dall'alto si china e va verso il basso in questo senso noi possiamo individuare due spettacoli particolarmente significativi di questa prospettiva uno è la volontà che è uno spettacolo di Cesar Brì dedicato a Simon Veil una filosofa una pensatrice straordinaria del Novecento che ha fatto l'idea della discesa verso il basso verso gli uberi verso i poveri uno dei principi fondamentali di quella che è la sua trasfigurazione cioè di quella che è la sua mistica la sua ascesi che l'ha portata anche poi a incontrare il cristianesimo l'altra esperienza altrettanto interessante di discesa verso il basso di trasfigurazione a partire dal basso è lo spettacolo Lourdes di Andrea Cosentino tratto dal romanzo di Rosa Matteucci anche qui abbiamo una vicenda che parte da un viaggio che sembra quasi un viaggio infernale verso un luogo sì di devozione ma per la protagonista che è una protagonista atea all'inizio in partenza è una sorta di viaggio quasi comico quasi grottesco verso quello che è tutta questa devozione poi però improvvisamente l'ingresso nella grotta nasconde la rivelazione opposta cioè a partire dal basso a partire dalla malattia a partire dalla degradazione si apre uno spiraglio una porta che trascende completamente questo corpo questa degradazione e la risveglia verso il futuro e questa è l'altra grande suggestione di un'idea di trasfigurazione che per l'appunto non tende a vedere la trasfigurazione come ascesi ma come discesa verso il basso per poi poter risalire e questo era l'ultimo contributo in scaletta per quanto riguarda questo nostro collegamento dalla fortezza da basso di Firenze saranno molti ripeto gli spunti che dovremo tutti quanti noi su quelle dovremo tutti quanti noi ragionare e riflettere nei prossimi giorni nelle prossime settimane nei prossimi mesi accogliendo anche una delle tante proposte formulate dai giovani presenti qui ovvero promuovere il coraggio di sperimentare di formare l'audacia della testimonianza per avviare questo processo sinodale che qui ha avuto una sua concretizzazione evidente molti dei delegati presenti la quasi totalità ha infatti espresso un giudizio positivo sulla modalità con la quale sono stati messi nelle condizioni di riflettere e ragionare sui temi che hanno voluto affrontare sui quali hanno voluto portare proposte anche di tipo operativo in questa discussione io avrei concluso dalla fortezza da basso di Firenze quindi Marina ti cedo la linea sì allora volevo sapere un po' come è stata per te questa esperienza quello che abbiamo capito è che i gruppi questi 200 gruppi hanno lavorato molto bene insieme appunto in uno stile sinodale che si vuole proseguire questo cammino sempre di condivisione su queste tematiche adesso dicevi tu è un momento d'inizio non è un momento d'arrivo Firenze volevo capire anche dal tuo punto di vista come comunicatore cosa ha voluto dire questa esperienza sicuramente dal punto di vista della comunicazione è stato impegnativo ovviamente ma anche stimolante devo dire che se devo fare un raffronto tra la precedente esperienza ovvero quella di Verone e quella di Firenze mi è sembrato di incontrare delegati da un lato molto più disponibili a fermarsi a raccontarti le loro esperienze li sentivo più consapevoli da un lato ma soprattutto più spinti a essere partecipi del dibattito essere più consapevoli che ognuno di loro qui era venuto qui a Firenze per portare un contributo specifico tutti sono stati ascoltati i giovani torniamo a loro perché comunque è importante pensare a loro i giovani diversi mi hanno detto quasi meravigliati e questo per noi adulti è un ulteriore stimolo di riflessione meravigliati che attorno a un tavolo ci fossero vescovi sacerdoti altri laici comunque adulti che li ascoltavano che prendevano in considerazione le loro proposte e anche le loro se vogliamo provocazioni di giovani ovvero l'invito a sperimentare a cercare vie nuove mi è sembrato un convegno davvero molto molto stimolante e che darà da lavorare parecchio nei prossimi mesi nei prossimi anni in ciascuna delle diocesi italiane Giacomo speriamo allora che questo stile rimanga questo di una chiesa in ascolto dei giovani grazie per il lavoro che tu appunto Giacomo Biancardi con Alessandro Marinari Ivan Russo Andrea Tagliani con la troupe di Telepace avete fatto da Firenze per raccontarci questo quinto convegno ecclesiale nazionale che si è concluso oggi sì Giacomo e un ringraziamento anche ai colleghi di Telepace Chiavari che hanno supportato la nostra diretta oggi senz'altro allora grazie a quanti hanno lavorato per raccontarci questo convegno ecclesiale si chiude questa settimana e noi torniamo lunedì con oltre la cronaca alle 13.30 in replica alle 17 e noi torniamo